Sicurezza urbana integrata. Gli assessori e consiglieri comunali della Lega presentano i punti salienti del progetto per la città di Pescara. Un progetto che consta di diverse soluzioni per la sicurezza e il decoro urbano della città. Polizia Municipale attiva 24 ore su 24, pattuglie in borghese, d'aspo urbano, sgomberi in attuazione del Piano Nazionale Decreto Sicurezza, videosorveglianza mobile, illuminazione adeguata, riqualificazione aeree degradate, promozione, inclusione e solidarietà, accordo tra Comune, Questure e Comando Provinciale dei Carabinieri, controllo di vicinato attraverso la piattaforma WhatsApp e il protocollo d'intesa per la gestione del sistema di videosorveglianza del Comune, coordinato con i profili di interesse operativo delle forze di polizia territoriali, saranno attivate, oltre a quelle presenti, altre 250 videocamere messe in rete per un milione di euro, come riferisce l'assessore Adelchi Sulpizio. Il primo elemento che noi riteniamo è il sistema di videosorveglianza, quindi faremo capire, abbiamo cercato anche di spiegare quello che è il sistema attuale, che vede un sistema fatto più che altro di isole, cioè ci sono tanti sistemi di videosorveglianza che non dialogano fra di loro, si limitano a registrare le immagini e basta, con un sistema invece altamente innovativo che stiamo adesso invece facendo, dove tutte le analisi e tutte le telecamere che andremo a installare andranno posizionate, ognuno sul territorio, confluiranno in una room che posizioneremo all'interno della polizia municipale, dove lì ci sarà l'analisi video contestuale di tutte queste telecamere. Parliamo di numeri importanti, poi la nostra missione è quella di recuperare le telecamere esistenti che sono oltre 100, a fianco a queste telecamere che sono 100, installarne altre 250 e da lì partire per un sistema di controllo organico, dove tutti questi dati fanno sì che andranno in queste centrali, dove verranno analizzati. Dov'è la sfida? La sfida non è nel limitarsi a registrare queste immagini, È un sistema che ci permetterà di controllare seduta stante tramite degli alert quello che sta succedendo su Pescara, con dei software avanzatissimi che ci porteranno Pescara fra le prime città in Italia, con un sistema di controllo, parliamo di intelligenza artificiale, che ci permetteranno anche tramite degli alert di verificare anche seduta stante quello che sta succedendo in determinate zone su Pescara e anche di intervenire immediatamente. Entro metà novembre ci sarà il progetto esecutivo per partire subito dopo per mettere a gara tutto il sistema.